La luna di miele tra governo Meloni ed elettori prosegue, è questo il verdetto dell'ultima analisi condotta da Vis Factor La fotografia dello stato di salute dell'esecutivo a due anni dall'insediamento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi è la seguente, il gradimento dell'esecutivo è stabile, la premia risulta essere prima tra i leader mentre Antonio Tajani è il ministro più apprezzato Forza Italia è davanti alla Lega mentre tra gli elettori predomina una percezione negativa su tasse e manovra appena approvata dal CDM, lo scorso martedì Punto secondo la società lidera a livello nazionale nel posizionamento strategico, che attraverso il superindicatore Human Index fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite Web e Social Listening Ottenuto in collaborazione con EMG, il gradimento del governo cala leggermente dal 46,9% dell'ottobre del 2023 al 46,1% attuale La maggioranza taglia dunque il traguardo del secondo anno di legislatura con orientamento stabile degli italiani nei suoi confronti Nella top 5 relativa al gradimento del leader di partito al primo posto troviamo Meloni, fondatrice di Fratelli d'Italia, con il 39,3% Seguita da Tajani, Forza Italia, con il 33,6%, Ellis Clen del Pidi con il 30,9%, Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle con il 29,7% e Matteo Salvini con il 26,5% Sul versante Ministri, come detto, in vetta che Tajani titolare degli estri seguito da Guido Crossetto, 32,7%, alla difesa, Adolfo Urso, 31,7%, allo sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, 29,7% all'ambiente E Matteo Piantedosi, 29,6% agli interni Sulle intenzioni di voto ai partiti Fratelli d'Italia al 28,8% Il Partito Democratico al 22,6%, il Movimento 5 Stelle al 12,3%, Forza Italia al 9,2%, La Lega all'8,2% A seguire Sinistra Italiana Verdi con il 6,4%, Italia Viva al 2,5%, Azione al 2,4% Punto per quanto riguarda invece la legge di bilancio, il sentimento è negativo al 60,2% e le emozioni più associate alle discussioni sono preoccupazione, 25%, delusione, 21%, e frustrazione, 14%, I concetti usati con maggiore frequenza dagli utenti imposti e commenti analizzati sono banche e assicurazioni, nuove tasse, taglio cuneo e cuneo fiscale, aumento accise, risorse e salità, taglio ministeri, tassa extra profitti E sarà proprio su fisco e lavoro che il governo dovrà lavorare maggiormente nelle prossime settimane, anche e soprattutto dal punto di vista della comunicazione Perché in politica la percezione vale tanto quanto la realtà, a volte anche di più Grazie Grazie